Una giornata importante, quella del Fiocchetto Lilla, qui al Liceo Buchner di Ischia, una mattinata emozionante, piena di tante cose. Sì, emozionante perché quando incontri i ragazzi è una cosa molto importante per me, per l'associazione, e quindi l'emozione c'è sempre ed è forte. E poi anche perché la possibilità noi dell'associazione di fare un qualcosa di concreto, cioè oggi abbiamo parlato con i ragazzi, fra l'altro con la testimonianza di Francesco Scaccino, rinforza sempre di più il messaggio che noi Artemisia vogliamo dare nelle scuole e di essere quindi a uno stretto contatto con i ragazzi che tanto hanno bisogno di conoscere queste problematiche di disturbi del comportamento alimentare. Hanno bisogno probabilmente anche di sapere che se hanno qualche disturbo, da quel disturbo si può venire fuori. Certo, infatti perciò è importante la presenza di Francesco Scaccini, sicuramente si può guarire, è importante chiedere aiuto subito, come l'abbiamo detto Francesco, come abbiamo ribadito. Noi come associazione ci siamo sempre, anche se speriamo nelle istituzioni che si incominciano a fare dei primi passi seri e concreti, perché sta diventando per noi veramente un lavoro enorme. Io sono berrato di telefonate e non ho neanche più a volte il tempo per rispondere, quindi assolutamente c'è bisogno dell'aiuto di tutti. E la scuola è uno degli ambienti dove maggiormente puoi dare una mano alla causa. Assolutamente sì, noi ci teniamo particolarmente, credo che Paolo l'abbia anche spiegato, non so se voi eravate già arrivati, Noi come scuola, credo unica in Italia, abbiamo creato un team proprio specifico per questo tipo di problematica, che è una problematica difficile da capatare subito, molto subdola, che colpisce questa fascia d'età ed è la seconda motivazione di morte fra gli adolescenti. Quindi questo lascia capire quanto grave sia questa problematica. Noi abbiamo un team come scuola dove c'è il referente del disturbo del comportamento alimentare, che è il professore Paolo Massa, c'è la psicologa, c'è la funzione strumentare per l'inclusione e quando noi abbiamo il sospetto, abbiamo una segnalazione o abbiamo un sentore di qualcosa, interveniamo in maniera, diciamo, proprio con una task force per aggredire questo problema, che ripeto è un problema difficile, un problema di non facile individuazione immediatamente, ma è molto importante intervenire in maniera tempestiva, perché prima si interviene, più probabilità ci sono di risolverlo.